Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Mi chiamo Ornando e sono di Orlando in Florida. In questo video vorrei parlarvi delle cose che ho fatto in questi giorni perché non ho registrato un video per alcuni mesi forse. Ho scoperto un nuovo hobby, la memorizzazione oppure le tecniche di memoria. In inglese diciamo pneumonics, in italiano forse è pneumonica. Questo sport è molto interessante. Uso queste cuffie quando memorizzo i numeri, le immagini, i nomi e i visi. I visi, giusto. Ci sono le competizzazioni attraverso il mondo, per esempio in Italia, l'Asia, molti paesi. Gli Stati Uniti e poi c'è una gara mondiale oppure quando tutte le persone da diversi paesi partecipano in questo, questa competizzazione. Infatti il campione del mondo è un italiano che si chiama Andrea Muzzi. Lui è molto bravo. Lui è molto bravo. Ho iniziato a fare questo sport perché vorrei migliorare la mia capacità di studiare e memorizzare le cose che lengo oppure ascolto. E poi mi piace recitare, soprattutto le poesie. Quindi sto memorizzando le poesie. E poi mi piace lo sport in generale. Molte persone non sanno che questo sport esiste, ma sì, esiste. È un po' come scacchi. Penso di sì. Perché ci sono i grandmasters, per esempio, i grandmasters di memoria. Queste persone sono molte brave. Quindi sono i grandmasters, per esempio, i grandmasters, per esempio, i grandmasters, per esempio, i grandmasters. Per questo devo allenarmi per molte ore ogni giorno, non molte ore perché lavoro, ma quando sono libero di solito allenarmi con le tecniche di memoria perché un giorno mi piacerebbe partecipare in queste gare, soprattutto negli Stati Uniti e poi la gara mondiale. Vorrei raggiungere un livello molto alto, soprattutto con i numeri. Forse registrerò un video sulle tecniche di memoria e il mio progresso. Fatemi sapere se vi interessa. Sì, il mio italiano è peggiorato perché non parlavo molto in questo periodo perché di solito allenarmi con le tecniche, sì, ma lengo in italiano, ascolto ancora i podcast, i video su YouTube, eccetera. Sì, e basta. Grazie per aver guardato, non dimenticate di iscrivervi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!